Chi sarà il capo cannoniere di questa serie A? Beh, i nomi più indiziati sono sempre i soliti, Lautaro, Immobile, Vlaovic, Ozyman. Non mi sono dimenticato di Lukaku o d'altri, ma secondo me sono questi quelli che possono ambire al capo cannoniere. Anche se mi piacerebbe tantissimo che fosse Giroud il capo cannoniere. Ma contando che non ha mai segnato più di tanto e soprattutto riposerà per la Champions, è praticamente impossibile. Ecco, proprio il riposo secondo me è un punto chiave per questo ragionamento dei capo cannonieri. Perché secondo me tutti e quattro i favoriti riposeranno un po'. Perché per esempio Immobile ha la Champions, Ozyman ha la Coppa d'Africa, Lautaro anche lui come altri ha la Champions. Mentre Vlaovic è l'unico che ha una competizione. E questo potrebbe sicuramente fare la differenza. Però secondo me tra tutti questi c'è nettamente un solo favorito. Ed è quello che vedo come più fame, più grinta. Perciò credo che la risposta sia solo una ed troppo semplice. Poi credo che sia anche quello con più responsabilità all'interno della sua squadra. Non a caso ho puntato tutto su di lui al fantacalcio. Io dico Lautaro Martinez.